L'eterna e inquietante suggestione di Faust. Può farsi provocazione visiva e di linguaggio, ricordate le postcard di Liberovici, può farsi musica ispirata da e per quel capolavoro dell'espressionismo tedesco che è il Faust di Murnau. Concerto per Murnau è la partitura che Roberto Fiore ha composto ripensando proprio a quelle seducenti immagini del grande maestro del mondo. Grazie a tutti.